In una condizione come voi potreste che è un nero stabile. No, Cigi vieni. Ma voi è un nero stabile? No, stavattina è già in partenza a partitene. Dopo che è perché non c'è il nero. Dopo che vanno a ruotare. Pensate che l'ho giocato a prendere. No, è come andava via. No, ora si stringe più. Ho nervoso ora. Siete qua. Ciao, attenzione nervosa. Non c'è tanto se che mi mangia i sordi. Non so il vero qua c'è. Ora si vede che tu si stuccia con i pinnoletti. Capiste che succede? Tu si stuccia con i pinnoletti. Se mangiare a Dio si stacca. Non è nemmeno fare cadote. Capiste? Casomai rapa tutto. Ti avrà fatto assiccettare. Questa è? Oh! Bro! Come si dicevi amicizzo? Come si chiama qua tutta dentro? Battami un cazzo! Battami un cazzo! Battami un cazzo! Battami un cazzo! Ti vedi? Ora si è toccato nel mercato, per esempio, lo vedi? Sì, se tu hai dato la camera, bella fura ci fa. Ma scorrere, quando sei pronto, quando ti dicendo volo. Tre, torniamo in giro. C'è la mezza, cà, cà, cà. Passi, passi, perfetto. Ora sei in volo, cà, sei in volo. Vasti le mani, ti metti, si stimate, metti. Allora, io faccio un po' della rovescia. Non lo posso dire. Preparo uno. Non, non, non. Orandare, è diventata due e uno. Allora, perché, non? Sì, se tu è venuto? Non, non, non è nulla. Noi, non ho ferto. Non, non ho ferto, non ho ferto. Non, non ho ferto. Ma un momento. Tre, due, uno... Vino, no, 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 vai Zoe! Vai vai bargärcio, vai 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 corro! Corri, corrri, corre, 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 corre vai, corre, corre!!! Jutta! Ho radio la gente qui si chiede. Se ne veniva bruno, ho un rattore, così. Ma go, Fra guys, stai verso... Corri, giusto? Giusto, siuh, corri , leanufermate, corri e siuh! Voi! Goди, andtheah! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.